Casa torna alla voglia di affitto. Il trend, dice un'indagine nazionale di Confedilizia, è ormai segnato. Quest'anno si venderanno e dunque si acquisteranno meno case, mentre andrà sempre più di moda l'appartamento in locazione. C'è voglia di affitto, annuncia l'associazione di categoria. Confedilizia ha monitorato i prezzi nelle 104 province italiane. Venezia è la città con le case più costose, 10.000 euro a metro quadro contro i 7.500 euro di Roma. Ma più che di voglia di affitto, bisognerebbe parlare di necessità, quale via di fuga dai mutui. Mestre, l'affitto risulta essere la forma contrattuale preferita, soprattutto dagli stranieri, da qualche giovane coppia o da giovani single, e da quei veneziani che non possono sostenere le spese del centro storico. In terraferma si possono trovare anche canoni da 500 euro al mese, senza spese, per un appartamento con due stanze. Basta andare a Favaro o a Marghera.